Diretta dal Campo Ventecodi per il James Cup con Piero Tiberi e Matteo Zecchia, giocatori del Lione. Oggi è andata male contro l'Orimpique Marsiglia, un derby di Francia. Capitano, vogliamo dire qualcosa. Onore a Tale Patrizia e a tutti gli altri, tutti i bravi. Sempre onore a chi vince e anche agli sconfitti. Grazie. Allora è finita la regular season, siete diciamo nel centro della classifica. Voi dovete recuperare una partita, però diciamo che per adesso siete nel centro della classifica e farete sicuramente play out, ancora non si sa con chi, comunque voglio dire, bene no? Per come si era partiti, abbiamo, siete migliorati, andando giocando. Sì, abbiamo dovuto rifondare la squadra, ho preso il fenomeno. Che naturalmente sarà premiato adesso a istanti. Comunque vi vedo pure che giocate un po' meglio, effettivamente giocare in tempo aiutate. Sì, sì, ma appena abbiamo fatto la squadra ti ricordi proprio, neanche ci conoscevamo con Gabriele, Bagliocchi eccetera, poi era lui che faceva la squadra, poi purtroppo… Poi ho fatto delle retini del comando. Sì, no, è che lui è bravo a calciotto, però a calcetto così e così. Ma in amicizia, ce lo siamo detto, non c'è problema. Invece Piero, grande prestazione, la scorsa giornata, quattro reti contro il Real Madrid, insomma, questo è il premio che noi ti diamo per il migliore in campo, lo puoi aprire, offerto da 5 contro 5. Pazza figo, Lione. È una sacca del Lione, sì, con l'uogo del Lione e dentro c'è il 98. No, anche di communication, poi se vuoi lo puoi mettere, se vuoi te lo mettiamo. Pazza figa, grazie. Va bene, complimenti, congratulazioni, in bocca al lupo per il resto del del Lione e dentro che non era il vantaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.